salve a tutti il prossimo 8 marzo oltre ad essere la giornata internazionale delle donne saranno 23 mesi ovvero due anni meno un mese della fornace tv su twitch abbiamo perciò deciso di far coincidere questi eventi con una serie di novità e grandi ritorni sulla fornace tv a cui si aggiunge un nuovo palinzesto a partire dal 2 marzo domani perché ci sta guardando oggi primo marzo brevemente da domani accendendo la fornace tv intorno alle nove troverete sia un grande ritorno che una novità la nostra voce storica è tornata ed oltre agli spot sarà protagonista degli annunci di mattina pomeriggio e sera confermati i tre capolavori della fornace per cui senilità vergine delle rocce e terra bruciata confermato anche l'evento più grande degli ultimi decenni che ha interessato la leronese ovvero 150 anni insieme per essere italiane due novità la fornace fornelli arriva sulla fornace tv e a seguire l'intera prima stagione di dot matteo due grossi spostamenti anche a seguire la festa del volontariato torna nel palinzesto di urno e subito dopo la puntata di sereno variabile su allerona ed orviero il pomeriggio della fornace tv e ciclismo quindi tra le parentesi dei i sette sindaci e la fornace fornelli abbiamo il terzo memorial sauro pietrino il passaggio di tappa del giro d'italia 2010 e l'arrivo di tappa ad orvieto del giro 2011 con la rimozione dei momenti morti chiudo il pomeriggio ciclistico la rubrica in giro per l'orvietano curato da tom sees con i quattro più bei percorsi ciclistici ovviamente dei dintorni di orvieto dopo l'ultima parentesi culinaria della fornace fornelli è confermata la parte dedicata al febbraio nevoso del 2012 con gli speciali che sono già in onda in questo momento dalle 21 e un quarto tornano i grandi film della fornace quindi in ordine inverso rispetto alla mattina seninità vergine delle rocce e terra bruciata a seguire di nuovo la prima grande stagione di dot matteo per il momento l'unico cambiamento previsto è da lunedì 8 marzo alle 21 e 15 tutti lunedì ci sarà lunedì docu film un grandissimo ritorno quindi i film della fornace e dot matteo slittano di qualche ora avanti backstage e terra bruciata vergini delle rocce e di videoclip musicale non sono stati cancellati sono solo trasferiti nella programmazione notturna altre novità sono negli spot e in altre cose che non vi anticipo da me o no bandana è tutto non mi resta che salutarvi e ci vediamo sulla fornace tv novità novità Grazie a tutti. Grazie a tutti.